Padre Giacamel è stato sgozzato nella croce, proprio mentre celebrava il sacrificio della croce di Cristo. È stato assassinato come se fosse un criminale. Che lui dal cielo, perché dobbiamo pregarlo. C'è un martire, e i martiri sono beati, e i martiri sono dei benheureux. Dobbiamo pregarlo, che ci dia l'amitezza, la fratellanza, la pace, anche il coraggio di dire la verità. Uccidere in nome di Dio è satanico.